In questa unità scopriremo come lavorare con lo spazio tridimensionale di After Effects. Quindi nella nostra composizione finalmente potremo dare profondità ai nostri layer e aggiungere luci, ombre e camere per creare scene completamente tridimensionali. Ora non avranno la profondità come un software 3D ma avremo sì la sensazione di navigare all'interno della scena. Proprio alla fine di questa unità andremo ad animare una fotografia, quindi diventerà un video a tutti gli effetti.